Ho ripetuto più volte la parola controllo, perché sono fermamente convinto dell'ufficio essenziale che la Corte svolge in tal senso nell'architettura della nostra cosa pubblica. Questo controllo deve essere efficiente e intransigente, ma con la stessa fermezza considero fondamentale che tale controllo sia rapido, perché le decisioni della Corte, quando intervengono lontane dagli atti sottoposti a controllo, pur se intransigenti, inevitabilmente perdono molta della loro efficacia. I tempi straordinari che viviamo lo richiedono. L'emergenza epidemiologica e la connessa crisi economica mettono senz'altro a dura prova la richiesta di maggiore velocità e migliore trasparenza che i governanti richiedono ai governanti in ogni luogo. Che i governanti richiedono ai governanti in ogni luogo.